Due aziende su tre nel settore soprattutto del commercio, del turismo e dei servizi non trova personale. La tanto attesa ripartenza c'è ma paradossalmente non c'è la forza lavoro per garantire operatività alle aziende, soprattutto a quelle del settore dell'accoglienza. Sì, è una ricerca continua, soprattutto dal dopo pandemia. Praticamente ora siamo in una situazione dove c'è una forte ripresa perché con la bella stagione, la gente che ha voglia di uscire, quindi l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità anche di ampliare lo spazio esterno, ci ritroviamo in una condizione dove non riusciamo a coprire la richiesta perché non riusciamo a reperire il personale, sia nella sala sia che in cucina. Ma il motivo per cui vi dicono di no, qual è quello più ricorrente? Guarda, i motivi sono i più disparati, possiamo parlare di tanti argomenti. Uno che influenza abbastanza è anche il discorso del reddito di cittadinanza, che ho trovato proprio, io ho tastato proprio il polso con mano, in quanto ho avuto delle rifiuto alle offerte che erano state fatte di lavoro, ma soprattutto perché la preoccupazione era sul fatto di riprendere tutta, di rifare le richieste per poi riottenerlo in futuro se, metti il caso, il lavoro non dovesse avuto esito positivo. Quindi questo è uno dei fattori. Altri fattori sono dei giovani, soprattutto per i giovani, che non si vogliono sacrificare il fine settimana. È comprensibile chiaramente, dopo due anni che sono stati in casa, però questa è una problematica che per noi non sappiamo dove reperirla, perché non solo i ragazzi giovani, italiani, ma anche estracomunitari, cioè di qualsiasi tipologia, non riusciamo a provarlo. Noi è da proprio un anno che siamo in continua ricerca, in continua ricerca e ora siamo in emergenza, diciamo così. Pochi i candidati con le competenze cercate oppure pochi interessati alle mansioni offerte e non è nemmeno un problema delle condizioni di lavoro, tanto meno dello stipendio offerto. Siamo assolutamente contrari allo sfruttamento, cioè questo lo diciamo con forza, andiamo anche contro chi sfrutta. Mi è capitato anche situazioni dove è stato praticamente, si sono presentati dei giovani che venivano sfruttati perché erano pagati al nero. Io gli ho fatto la mia offerta, la mia offerta è chiaramente regolare, lo hanno riferito al datore di lavoro dove erano al nero e il datore di lavoro ha detto va bene allora ti metto in regola perché era una persona valida. E questo è successo per due anni che questa ragazza non lavorava regolarmente. E noi cosa facciamo? L'offerta è l'offerta commerciale, l'offerta è il contratto classico che noi possiamo fare con trecesima, quattordicesima, tutti i contributi. Però il problema non è neanche quello, cioè una volta c'era il contraddittore, uno diceva quanto mi date, quello che posso dare, se sono una persona qualificata chiaramente uno è disposto a dare più, se sei iniziale chiaramente inizi dalla base e poi cresce perché l'interesse nostro è tutto di crescere insieme. Invece non arriviamo nemmeno a contrattualizzare, quindi il problema è quasi in secondo piano perché noi possiamo offrire qualsiasi cifra, chiaramente riferita alle ore di lavoro, riferita all'abilità del soggetto. Però non arriviamo neanche a parlarne di questo argomento.